Buonasera a tutti i convenuti. Questa sera il programma, la proposta è più ricca della volta scorsa grazie al coinvolgimento della dottoressa Paola De Santis che ha avuto piacere di unirsi a noi, a noi della Dante, per ricordare, per cominciare una riflessione, una condivisione delle conoscenze su Spina, sulla città di Spina, gli scavi, perché poi è il centenario delle esplorazioni archeologiche, quello che si celebra quest'anno di per sé, abbiamo visto la volta scorsa, di Spina, ci se ne è sempre occupati anche al di là degli anni che cadevano nei 22. Spina da Adria Reina e la geografia storica del Delta Padano in età classica, 2. Non la vendetta, la scoperta della città perduta. Una parola di ringraziamento alla direzione della biblioteca che continua a aver fiducia e ci ospita. Cominciamo. Gli argomenti dell'incontro di questa sera sono così distribuiti. Gli scavi di Valle Trebba, la creazione e l'inaugurazione del regio Museo di Spina, di cui tratterò io. Poi l'approfondimento con gli scavi di Valle Pega da parte dell'amica Paola De Santis. Quindi, in conclusione, riprenderò io la parola, con il tempo rimasto, per accennare a altri tre punti. Spina e Letruria Padana. Letruria Padana è la città di Spina, questo bisticcio di parole, ma uno è il titolo di un convegno che si tenne a Ferrara, l'altro è il titolo di una importantissima mostra di arte antica che si tenne a Bologna un paio d'anni più tardi, e quindi la scoperta dell'abitato di Valle Lepri. Quindi, questo è quanto. E poi, se ci sarà modo, anche per un paio di scambi di pareri, c'è bisogno di qualche chiarimento, condivisione. Però, prima di partire con il primo punto, mi ero impegnato a riferire qualche cosa a proposito della fase pre-archeologica della ricerca di Spina, con cui ci eravamo lasciati la volta scorsa. Gian Francesco Bonaveri aveva scritto, questo medico che aveva condotto a Comacchio, nel 1723, nel relazionare all'Accademia delle Scienze di Bologna, che è sempre stata attenta alle problematiche dell'Etruria Padana e anche del nostro territorio, crede adunque il mio detto antiquario, cioè il medico bolognese Francesco Bonaveri, aveva presentato tra il 15 e il 22 aprile del 23 una propria storia fisico-naturale della città di Comacchio, che però non venne pubblicata lì per lì, si aspettò un quarantennio, quando un altro medico, il Pierpaolo Proni, nel 61 ci si dedicò, con aggiunte note. Allora, Francesco Bonaveri fa riferimento ad un antiquario che lui avrebbe incontrato in quel di Comacchio e scrive «Crede adunque il mio detto antiquario essere stata l'antica città di Spina laddove è ora la Valletrebba». E si accenna alla zona di Menate anche, ma poi dice «Poco più di un miglio vi ha un certo terreno isolato che chiamano le tombe, non peraltro se non perché, scavato che sia, si incontrano antichi sepolcri fatti di pietre cotte, vi si vengono dentro frammenti d'ossa ed in qualcuno vasi di terracotta, ma non mai medaglie». È certo che non meno dei Romani, i Greci ancora costumavano seppellire fuori di città i cadaveri umani e questo luogo veniva appunto ad essere a portata di ricevere quelli degli antichi spineti. Conferma queste congetture una patera funebre ritrovata in un antico sepolcro delle tombe questo microtoponimo ed una fiala lacrimatoria o lucerna sepolcrale galantissima che rappresenta uno giacente a piedi di un'urna per cui orificio superiore si ha l'ingresso nel vano di quell'artificioso lavoro. Molti materiali trovati in quei dintoni e la bellezza del sito non troppo lontano dal mare né di soverchio vicino sembrano prove bastanti per indurre a credere che Colà fosse l'antica spina e che Comacchio non sia che una città nata dalle ruine di quella e cresciuta emula della gloria di essa. Così il Bonaveri. il Proni nel pubblicare il lavoro del Bonaveri è in nota non è d'accordo sulla posizione sembra una stravagante novità quella del Bonaveri che pensa a rimanere persuaso che la famosa ed antica città di Spina avesse la sua situazione ove di presente la Valle d'Etatreba e che per tortuoso cammino di Colà passando il po' che ora mette foce a Primaro a quei tempi la mettesse presso a poco dove ora il porto di Magnavacca Porto Garibaldi queste asserzioni che pongono sossopra tutte le topografie antiche e moderne sono appoggiate sull'unico fondamento di essersi scoperti in quelle vicinanze certi mosaici antichi e sepolcri che si amplificano ritrovati al luogo detto le tombe in detta valle di Trebba Francesco Leopoldo Bertoldi che è stato che ha lavorato anche presso questo palazzo come custode, conservatore è stato aiutato il Bellini e poi gli è succeduto come direttore del museo archeologico era un argentano si è trovato poi incaricato dal comune di Argenta di scrivere una storia alle memorie della sua cittadina d'origine il cui primo volume sarà pubblicato nel 1787 ma un paio d'anni prima aveva dato alle stampe le memorie del po' di Primaro e bene si occupa anche lui della problema è un erudito straordinario Leopoldo Bertoldi e scrive stabilito sulle adotte ragioni e sopra i testimoni allegati che la foce spinetica era la foce stessa di quel ramo del po' che diciamo di Primaro che questo non metteva in mare ai tempi di Plinio né dove dall'Alberti Leandro Alberti che abbiamo ricordato e dal Biondo Flavio Biondo fu scritto né più di sotto come oggi dì e che dove avere lo sbocco a un dipresso né contorni di filo filo d'argenta quindi tutto ciò al saggio lettore io lascio decidere quale delle varie opinioni circa il sito di Spina sia la più verosimile quindi tra Comacchio tra Ravenna tra Argenta ecco quindi come diceva il Belli dice alla fine venimo a sapere che era un mistero e proprio qui in biblioteca visto che siamo all'interno nell'ambito di archeologia in biblioteca le indagini che si possono svolgere le informazioni Antonio Frizzi è il grande storico di Ferrara le sue memorie di Ferrara sono ancora oggi uno strumento dal quale partire o comunque da tenere presente per tante informazioni fonti che ci possono risultare utili bene allegata comunque allegato al primo volume della sua della sua opera le memorie storiche di Ferrara primo volume dei cinque che è dedicato praticamente alla topografia del nostro territorio secondo la tradizione che risaliva Riccobaldo con la cronica Parva Peregrino Prisciani fine 400 inizio 500 bene non c'è studio sul nostro territorio sul popolamento eccetera che non può che partire da quella che era la situazione geomorfologica ecco allora quella carta che abbiamo che è pubblicata che è nel suo primo volume del 1791 però è il risultato di tutta una serie di pensieri e ripensamenti qui da noi in biblioteca si conservano tutti gli schizzi una serie di schizzi legati a come doveva presentarsi il territorio secondo lui secondo quelle che hanno le conoscenze che aveva potuto raccogliere quindi propongo una serie di disegni che sono da studiare o comunque da ricordare tutto legato appunto per quanto riguarda Spina vediamo un po' Spina la troviamo qui in questa qui c'è Ravenna Spina i vari rami del Po secondo la sua indicazione poi cominciamo ad essere un po' più in dettaglio Spina passa da questa parte e poi ancora il Telta nella sua complessità ci sono dei ripensamenti a livello di posizionamento dei vari popoli di età preromana si arriva via via alla messa a punto ecco con tanto di via Emilia a questa Ferrariensis regionis corografia antica e ecco qui quella che poi fu pubblicata nel 1791 ma questa è la fase prearcheologica ma anche precedente le ricerche di geografia o di geologia topografica o geologia storica come a un certo punto comincia a dire a scrivere a definirla Elia Lombardini questo ingegnere che è straordinario che ha conosciuto ha svolto parecchi studi legati al corso del Medio e Basso Po basandosi lavorando anche sul discorso del micro rilievo quindi cartografia storica cartografia ormai scientifica legata all'applicazione della triangolazione che aveva portato agli inizi dell'ottocento in età napoleonica poi questi i risultati dei francesi ereditati dai vincitori di Napoleone cosa succede? Che al Krieg Archive di Vienna si conserva una straordinaria cartografia mappatura del nostro territorio quella che è la carta del ferrarese 1812-1814 in scala 1-15.000 bene basandosi su questa cartografia e l'osservazione del micro rilievo Elia Lombardini propone una ricostruzione di quella che era la linea di costa che lui definisce il litorale etrusco tra virgolette e il succedersi dei diversi delta che su questa base si può lavorare diversamente ma attenzione è anche vero che prima delle scoperte di Valle Trebba agli inizi del Novecento qualcosuccia compariva ogni tanto e nell'area portuense sicuramente dall'area del comune di Porto Maggiore dell'epoca che comprendeva anche quello che è l'odierno comune di Voghiera che all'epoca non esisteva bene comunque tutta la zona del portuense è stata interessata anche da rinvenimenti e segnalo una trozella messapica e una lechitos a figure bianche malmessa che si conservano ai musei civici di arte antica che sono entrate a far parte delle collezioni civiche comunali prima dei rinvenimenti e delle scoperte quindi un'attenzione cioè sono pezzi che fanno capire comprendere un interesse locale per le antichità è anche vero che questi pezzi non erano non erano di proprietà inizialmente del comune ma facevano parte di quella che è la collezione di un di un privato Pasetti che poi donò successivamente entro a far parte delle collezioni locali ora Augusto Negrioli ispettore per le belle arti in particolare per l'archeologia allievo e genero del Brizio ecco grande archeologo professore a Bologna professore di archeologia classica ma che si occupava anche degli scavi di Marzabotto insomma tutte le problematiche dell'Etruria a Padana del tempo bene Augusto Negrioli aveva riferito al sopraintendente a proposito di questi invenimenti nella zona del Portuense e quindi dice c'è da riflettere sulla posizione di Spina o di un centro etrusco nella zona del Delta che non deve necessariamente insistere sulla zona sull'area della foce del Primaro dunque però adesso qualche parola sulle valli di Comacchio ma proprio rapido rapido ecco si parlava della cartografia scientifica su cui si basò Elia Lombardini propongo proprio due spezzoni della carta del Ferrarese di Vienna relativa al settore delle valli meridionali di Comacchio qui si vede bene Comacchio le valli meridionali con valle Pega ecco la strada comunque il canale Pallotta e poi sopra valle Trebba che possiamo vedere nella successiva ecco che è il proseguimento andando verso nord con la zona delle tombe ecco la situazione intorno al 1920 a livello di bonifiche a livello di sommersione è quella che in qualche modo si può vedere in questa in questa carta qui ecco allora sempre Comacchio la grande valle del Mezzano valle Trebba valle Pega valle Trebba quella che ci interesserà più nello specifico alcune valli sono state oggetto di bonifiche la bonifica di argenta la bonifica delle gallare la bonifica di valle Volta ecco gli scavi di valle Trebba interessano quella che è stata la bonifica di valle Trebba il 31 marzo 1922 quindi non è proprio l'inizio di aprile la prima notizia su rinvenimenti in valle Trebba ma il 31 marzo un operaio di Comacchio ha nota la laurigemma nella sua pubblicazione primo volume degli scavi dei corredi di Spina della pubblicazione ufficiale di Suspina del 1160 Aurigemma sarà il primo soprintendente alle antichità dell'Emilia Romagna che prenderà in carico tutta la problematica degli scavi conservazione e musealizzazione a partire dal 24 comunque scrive un operaio di Comacchio tale Giuseppe Baroni entrò il 31 marzo in Comacchio recando intatto un grande cratere a colonnette entro il cratere erano i frammenti di vasi minori ho posto non si sa che fine abbia fatto quel grande vaso ne ho proposto uno simile giusto perché si abbia idea di che cosa si trattava il 3 aprile qualche giorno dopo l'ingegnere Aldo Mattei direttore della sezione staccata del genio civile di Comacchio comunica alla soprintendenza dice nella valle Trebba valli settentrionali di Comacchio in cui è stata compiuta la bonifica idraulica a cura dello Stato e dove si stanno facendo dai comuni interessati Comacchio Lago Santo e Ostellato che si dividevano la proprietà della valle e dove si stanno facendo dai comuni interessati opere di bonifica agraria è stato scoperto casualmente da un operaio il barone di prima un sepolcreto probabilmente dell'epoca etrusca così almeno ritengo dai frammenti di vasi storiati scoperti il 4 un'altra comunicazione questa volta del ispettore onorario ai monumenti e agli scavi di Comacchio il Bonet rinvenimento a fior di terra in località detta tomba in valle Trebba di un vaso etrusco di squisita fattura ed assai ben conservato l'operaio che l'avrebbe trovato ha già messo in giro la voce probabilmente non vera di un'accidentale frantumazione di esso che compare 7 aprile da Bologna giunge a Comacchio Francesco Proni l'assistente agli scavi in quanto il Negrioli era impegnato in altra missione il quale accerta le circostanze dell'invenimento del cratere lo vede a Comacchio recupera il materiale archeologico che si tentava di trafugare arrivato in valle Trebba riconoscimento di talune tombe quasi affioranti a 50 metri circa a mezzogiorno dal punto dove il Baroni aveva rinvenuto aveva rinvenuto il cratere tutto intorno il terreno era cosparso di frammenti fittili e il punto quindi questa è valle Pega il canale Pallotta valle Trebba l'argine dello Spino la strada Poderale e questo è il punto sono 250 metri il punto del primo rinvenimento è qui e quindi si parla quindi si cominciano a tracciare i vari canali secondari e terziari ma il Proni scava anche due tombe la tomba 0 e la tomba 00 del corredo della prima tomba un cremato facevano parte taluni frammenti di un grande coperchio con scena di gigantomachia della metà circa del quinto secolo avanti Cristo che è quella parte di coperchio di le canne che vediamo lì a lato deposto entro un grande d'olio di terracotta anche l'altra tomba di umato quindi una inumazione doveva essere stata in precedenza doveva essere stata in precedenza come verosimile frugata cioè in parte saccheggiata ecco quindi la zona che ci interessa con gli scavi si iniziano data l'importanza l'eccezionalità dei rinvenimenti Francesco Proni e poi lo stesso Negrioli si rendono conto dell'area della vastità dell'area interessata dai rinvenimenti e dall'arco cronologico piuttosto ampio che la documentazione rinvenuta dimostrava riferiva ecco allora ho indicato ho pitturato dipinto ho messo qualche colore a proposito degli interventi che hanno riguardato gli scavi del 1922 e del 1923 nel 1922 si scavarono le tomba 000 e altre 44 l'anno successivo tutte sotto la direzione di Augusto Negrioli nel 1923 le tombe 45 e 221 il numero è progressivo di numerazione ho indicato i vari punti dei saggi delle aree interessate via via ora questa dispersione di intervento è stata determinata dalle condizioni nelle quali versava il territorio in oggetto un conto era d'autunno un conto durante l'estate perché c'erano anche lavori agricoli in corso e si cercava di non intaccare quelle che erano le attività e soprattutto le 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 essenze il frumento che cresceva che era stato piantato da quei contadini ai quali era stato temporaneamente messo a disposizione il terreno dai rispettivi comuni di Comacchio Ostellato e Lago Santo 1922 dicevo un certo un congruo numero una cinquantina di sepolture con altrettanti corredi tombali e questo è il più eclatante il corredo della tomba 2 di Valle Trebba per l'appunto tomba 5 ci ha restituito questo questo pezzo che ho voluto segnalare questa scossa perché nella didascalia presenta il fatto che arte greca del secolo V avanti Cristo stiamo parlando di ceramica attica del V secolo vaso a forma di testa d'ariete Bologna non si vede ma è Bologna Museo Civico ecco c'è stato un momento in cui tutti si è caricato un camion con tutti i vasi rinvenuti in Valle Trebba e trasferito a Bologna al Museo Civico qui si tratterebbe di aprire tutta la di vedere la querelle che sorse tra Comacchio Ferrara Bologna per tutti questi materiali ecco 1923 le tombe dalla 45 alla 221 quindi 177 tombe ho messo alcuni pezzi così e la più notevole e che continua ad essere una delle più studiate delle più ricche di informazioni è la tomba 128 qui che ci viene presentata con quello che è un disegno relativo al momento che ricostruisce in parte quella che era la copertura di lastre di materiale litico e tutto il corredo e lo scheletro si tratta di un'inumazione e questo è tutto il materiale che si è rinvenuto c'è da dire che purtroppo l'esplorazione di questa di questa sepoltura non è stata seguita direttamente dal personale della soprintendenza o comunque da archeologi perché venne rinvenuta da operai del genio che mentre stavano e ci si è tornati più a più riprese anche negli anni successivi a vedere se si poteva recuperare qualcosa del corredo 1922 1923 nel 24 esce la relazione preliminare su notizie degli scavi da parte di Negrioli ecco Comacchio quindi questa pubblicazione importantissima nazionale Comacchio vasto sepolcreto etrusco scoperto in Valle Trebba relazione provvisoria delle campagne di scavo 22 e 23 ecco e qui c'è un documento importante per la storia di stare nel 24 veniamo ad avere la soprintendenza l'antichità dell'Emilia Romagna il titolare è il dottor Salvatore Aurigemma che vediamo qui presso una trincea da quel momento fino al 35 sarà il responsabile il direttore degli scavi per quanto permetterà o lascerà la pubblicazione di una successiva della seconda relazione sempre ad Augusto Negrioli nel 24 abbiamo anche scavi clandestini ce ne erano stati prime ce ne sono durante c'è una doppia storia degli scavi di Spina di Valle Trebba quantomeno gli scavi ufficiali e gli scavi clandestini e quindi il numero delle tombe note è relativo qui abbiamo alcuni materiali che ci ricordano un sequestro effettuato dalla questura di Venezia nell'agosto del 1924 nel 25 vengono scoperte vengono esplorate e recuperate 135 tombe e si arriva alla quota 460 ci si impone di di svolgere un'indagine sistematica per cui si aprono delle ampie trincee da parte dell'aurigemma nel 25 altre 135 tombe le immagini fotografiche che sto presentando che accompagnano non sono ad annum sono così per darci un'idea di quella che era la situazione in quegli anni nel 25 135 dove dicevamo nel 26 154 tombe che accompagno con qualche immagine fotografica e qualche disegno rilievo di Francesco Proni che nel giornale di scavo ci ha restituito questo tanto preziosissimo per noi per chi si occupa dell'edizione dello studio di questa documentazione 350 tombe nel 1927 e nel 27 a proposito di scavi abusivi qui abbiamo un episodio increscioso ma anche comprensibile che ci consente di comprendere qual era la situazione sociale e culturale del territorio all'epoca ed economica la zona 2 la zona 2 per intenderci era ecco qua allora in rosso indicata la zona 2 zona 1 zona 2 questa tra il canale Donna Bianca e il canale Ortazzi ecco dove si erano iniziati gli scavi bene alla zona 2 che succede nel 27 viene sconvolta da un'incursione di degli abitanti di gente di Lago Santo gente di San Giovanni soprattutto Dostellato e qualche Comachiese vanno a scavare insomma è uno scavo popolare ecco si ritiene che quella è la terra della comunità e per cui tutto ciò che ma esisteva una normativa che diceva che appunto ciò che è sottoterra appartiene allo Stato e carabinieri insomma c'è stato un fuggifuggi si sono raccolti materiali che vediamo nell'immagine oltre anche a biciclette badili cariole quello che ecco in sintesi le campagne del 1913 le ultime l'ultima decina tra il 28 e il 35 ecco nella zona che abbiamo con la quale abbiamo preso confidenza vero la zona 1 zona 2 ecco anche la zona 3 è stata interessata dai rinvenimenti e qui abbiamo così il numero delle tombe che si sono andate esplorando e che hanno raggiunto nel 1935 a via dell'ufficiale il numero di 1213 ecco il regio museo di Spina di fronte a questa massa di documentazione archeologica con emergenze dal punto di vista qualitativo artigianato artistico di prima di primissima qualità comporta la la necessità di avere un luogo dove custodire questi materiali e non non mi trattengo per passare la parola alla collega Paola De Santis diciamo che nel 1935 il 20 ottobre a proposito di dati il 20 ottobre del 1935 viene inaugurato uno dei più bei musei archeologici che in quel momento ci fossero in Italia un museo nazionale un museo regio e con quello che era e rimane tuttora una delle collezioni di ceramica attica figure rosse tra le più qualitativamente numericamente importanti del mondo questa è la planimetria del museo come si presentava al momento dell'inaugurazione magari la prossima volta ci approfondiremo visto che ci sarà ci sarà un affondo museologico e museografico e gli organi di stampa che richiamano questo questo grande evento il palazzo di Luvidico il Moro restaurato per volontà del Duca le risorse ci vogliono ferrà il regio museo greco etrusco nel palazzo di Ludovico il Moro così veniva chiamato certo è stata un'impresa notevole prima di lasciare giusto un'informazione sulla figura di Salvatore Origemma si si lavorò a come mi pare di aver capito anche negli anni recenti proprio a marcia forzata per riuscire ad arrivare ad un'inaugurazione del museo bene diciamo che a livello governativo si sarebbe voluto che il museo il regio museo di Spina venisse inaugurato per l'anniversario della marcia della rivoluzione fascista il 28 di ottobre ma Salvatore Origemma che di fronte a un regime liberticida non si trovava d'accordo riuscì a sganciarsi da questa data e riuscì ad anticipare l'inaugurazione del museo al 20 ottobre del 1935 che va ricordato in questa Italia repubblicana io ritengo che fosse il caso gli scavi di Vallepega a questo punto cedo la parola alla amica Paola Losanti tra l'altro il 20 di ottobre era l'800 anni dalla si è scelta una data assolutamente io non ho voluto aprire del 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 tempio di San Giorgio allora qual è ecco qua allora vincola prima e poi la mettiamo al pieno ecco qua si va bene si 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 siamo nei tempi buonasera intanto in tutto volevo ringraziare moltissimo l'amico Alberto per questa iniziativa che precorre un po' tutte le iniziative per i cento anni della scoperta di Spina quindi lui è stato un precursore di tutto quello su cui adesso a vari livelli si sta lavorando e lo ringrazio per avermi chiamato e poi lui dirà anche il seguito e le altre persone coinvolte ecco l'ho chiamata l'epopea degli scavi di Spina Vallepega perché effettivamente come vedrete seguendo questo mio racconto io ora ho qualche foto che si sovrappone ma su cui andrò assai velocemente perché vanno certamente paragonati questi due approcci al territorio e allo scavo partono dallo stesso motivo cioè la necessità di mi tolgo la mascherina la necessità di bonificare un terreno la necessità di bonificare un terreno c'erano anche motivazioni diciamo la prima bonifica in Valle Trebbe era stata guidata anche dalla necessità di un'occupazione in un dopoguerra veramente molto povero quindi in fondo se pensiamo anche alla bonifica di Vallepega entrò in campo in un momento del dopoguerra in cui c'era molto bisogno di lavoro e di grandi opere ecco comunque qui propongo una avete visto delle bellissime piante che ci ha fatto vedere il professor Andreoli ecco qui proponevo quella del catastro napoleonico la pianta del 1814 in rosso e qui dove si vede benissimo un territorio completamente vallivo da cui emergono solo i fiumi fossili che sono diventati pensili per le esondazioni e che costituiscono il reticolo visibile è mio? ma l'avevo abbassato scusate bisogna essere proprio è tu Alberto mi stai chiamando tu infatti non so scusate ancora non so cosa sia successo l'avevo abbassato ecco e quindi queste valli questi fiumi pensili che costituiscono appunto le parti rilevate del territorio e che rappresentano poi anche i punti di addensamento del popolamento vediamo nella zona che ho circoscritto con il cerchio rosso questi isolotti che costituiscono il battente marino che come ben sappiamo ormai erano gli isolotti su cui si addensavano le tombe a nord valle trebba immediatamente a sud valle pega che ancora non cioè i cui isolotti erano più diciamo più sommersi maggiormente sommersi Nereo Alfieri battezzò la scoperta e la ricerca di spina lo scavo come l'impresa archeologica più importante dell'Italia settentrionale pre-romana appunto in diretta conseguenza delle bonifiche già l'ha detto Alberto comunque la prima iniziò immediatamente a cavallo dell'unità d'Italia nel 1864 l'ultima fase di bonifica fu nel 1980 la valle del mezzano sud-est dove non a caso furono poi rinvenuti sempre dalla soprintendenza lo scavo poi saronio coordinato anche dalla dottoressa Berti allora direttore del museo che è qui presente e nel mezzano sud-est vennero fuori anche quelle tracce archeologiche molto importanti meno evidenti certamente di quelle di spina ma che hanno fatto pensare a molti la possibilità che si potesse trattare di insediamenti pre-spina magari da alcuni messi in rapporto con la famosa spina 1 pelasgica ma questo sarebbe tutto un altro discorso ecco di tanti documenti che ci ha fatto vedere Alberto ecco forse quello che ho messo io è una cosa che dà un punto di più perché un punto di più cioè rispetto non ricalca esattamente tutto quello che ha fatto vedere lui che quindi è importantissimo anche perché non ha messo in esame proprio una raffica di date quindi avevo sottolineato una cioè il 31 marzo Filippo Baroni come sottolineava Andreoli e due frasi cioè qui è la relazione che Proni fa al conte Malagutti Valeri al soprintendente mandato appunto come già si è detto in sopralluogo a verificare e allora lui che cosa dice che si tratta veramente di un vero sepolcreto etrusco in Valle Trebba la notizia è esattissima mi ha commosso questo aggettivo esattissima cioè lui è andato a verificare ed è esattissima non ci soffermiamo sulla storia di Filippo Baroni perché già è stata diffusamente rappresentata Salvatore Origemma qui ne ha già parlato Alberto qui alcune immagini di scavi che molto spesso dovevano lottare in Valle Treba ma vedremo che in Valle Pegalo sarà sempre con un'acqua di risalita terribile per cui bisognava isolare le zone da scavare a volte usando anche sistemi come la pompa e il motore cioè era una sorta di pompa di pompa meccanica che riusciva a sostituire ciò che poi gli operai facevano con i secchi sostanzialmente una per fortuna ho riportato un giornale di scavo di un'immagine diversa quindi qui c'è il giornale di scavo di Proni dove vediamo in colori diversi in verde la zona dei sepolcri scavati quella zona due che ci faceva vedere anche Alberto in particolare qui però ecco si vede forse una cosa anche interessante che in beige la parte che non aveva restituito quindi che aveva dato solo risposte negative lì non c'erano tombe e una zona marrone in alto scavata più in profondità per l'impianto di un vigneto quindi era importante anche questa mappa in negativo dei ritrovamenti come pure le tombe le avete già viste nei disegni perfette rappresentata bene anche la cassa ve le faccio vedere qui in Valle Treba perché in Valle Pega i disegni sono veramente molto scadenti poi spiegherò perché però è molto interessante come si riportasse anche una pianta del negativo cioè dove era stato scavato senza trovare nulla cosa che era molto importante anche per il proseguo perché voi sapete che la zona di Valle Treba comunque a tutt'oggi è una zona soggetta a vincolo per cui tutti i lavori che vengono fatti dai contadini della zona sono soggetti a approvazioni autorizzazioni e comunque a controlli in corso d'opera varie autorità in eventi che ovviamente erano grandemente attesi dalla popolazione e che crearono anche questo grande consenso per il ritrovamento della grande spina in particolare ecco questa è interessante perché nello scavo di una tomba dove si vede Giovanni Gentile che allora era il ministro dell'istruzione che è quel signore col cappello e il pizzetto bianco mentre a destra c'è il professor Pigorini Luigi Pigorini importantissimo preistorico e dietro ci sono anche i nostri personaggi a lato di Pigorini c'è Renzo Ravenna che era il podestà di allora e poi ci sono tutta una serie di personaggi che a Ferrara fecero proprio la storia fecero la storia e furono quelli che contribuirono anche alla nascita del museo ecco in Valle Trebba un'immagine che è un'immagine d'archivio ovviamente la necessità di controllo di questi continui scavi diciamo di scavi di rapina ma anche un luogo dove alloggiare i materiali fu costruita questa cosiddetta casa del tesoro vedete che c'è un custode in piedi e ci sono anfore e altri materiali fuori in località Belfiore campo 52 che fu costruita fra il 28 e il 29 vedremo come questa è una vera casa che ancora esiste ecco ben diversa sarà la casermetta per i lavori in Valle Pega qui a proposito del museo poi se ne parlerà giustamente nei prossimi incontri ecco comunque questi furono un po' i cavalieri che fecero l'impresa Salvatore Origemma Ugo Ietti Carlo Calzecchionesti Enrico Minerbi quella intelligenza non solo di specialisti ma anche di personaggi culturalmente molto influenti in città che riuscirono a portare il museo a Ferrara la diatriba grossa poi era naturalmente con Bologna vabbè questo non mi soffermo nemmeno quindi ripropongo questa pianta per riindicare il Valle Treba qui siamo sempre nel Catasto napoleonico e Valle Pega gli scavi di Valle Treba bisogna forse fare una piccolissima premessa dicendo che è molto più avanzato lo studio sui materiali di Valle Treba per cui delle 1213 tombe sono state praticamente schedate quasi tutte e ora l'Università di Bologna sta seguendo uno studio comparativo dei corredi quindi Valle Treba ha uno studio in fase molto avanzata naturalmente a questo studio sistematico si aggiungono tantissimi altri studi che potete trovare nella bibliografia generale su Spina sotto vediamo il cerchio che recinge Valle Pega Valle Pega come vedremo sono circa oltre 3000 tombe ma queste 3000 tombe non hanno lo stesso livello di studio solo una parte di queste tombe ha avuto schedatura ma comunque è una schedatura che è stata seguita come anche quella di Valle Treba naturalmente della soprintendenza e mentre Valle Treba è affidata allo studio sistematico dell'Università di Bologna questa parte di Valle Pega è a cura della soprintendenza e secondo la nuova riforma di questa nuova creazione che è stata la direzione regionale dei musei quindi si sta procedendo per settori e comunque è certamente meno avanzata rispetto a quella di Valle Treba Valle Pega una foto o un'immagine di Val Vassori del 56 la sua zona settentrionale ecco dobbiamo pensare che sono 3200 ettari che furono indagati fra il 53 e il 61 un territorio sterminato tra l'altro la bonifica era parallela nel senso che Valle Treba era stata prima bonificata e poi la massima parte dei ritrovamenti avvenne nel corso dei lavori agricoli perché l'acqua era stata tolta a Valle Pega questo avvicendamento fra il prosciugamento e diciamo l'impianto agricolo fu assai più veloce ecco in questa aerofotografia della zona di Spina del 53 vediamo ho messo in rosso quelli che sono poi i punti di addensamento dei materiali cioè i dossi su cui in particolare sono stati ritrovati i materiali delle 3000 tombe e sono il dosso A che è il più esterno ci ritorneremo poi il dosso il dosso B che è centrale il dosso C il dosso D e il dosso E un elemento molto importante per affrontare ora questo diciamo riassunto sull'epopea degli scavi ed è un elemento che ha contraddistinto anche l'affanno che ha caratterizzato questo scavo è che la bonifica a cura del genio civile quindi di un ente pubblico che aveva caratterizzato gli scavi di Valle Trebba fu cambiò diciamo di protagonista da un ente pubblico come il genio civile si passò all'ente per la colonizzazione del delta padano quindi un ente privato i tempi non erano certo gli stessi cioè a dettar legge a quel punto erano i tempi della diciamo della bonifica e soprattutto il fatto che la soprintendenza si era legata a un patto che da una parte aveva dei lati positivi ma dall'altra anche negativi perché fu richiesta una mappa delle zone adesso si chiamerebbe una mappa della potenzialità archeologica di fatto era una mappa del rischio archeologico per cui lì si facevano controlli in corso d'opera e scavi però tutto quello che era fuori era come se fosse escluso in realtà non era così quindi non ci fu quella stessa diciamo programmazione che c'era stata prima con il genio civile quindi di fatto questi scavi si sommarono l'uno all'altro in un qualcosa veramente di vorticoso ecco io ho messo qui la cronologia tanto perché si possa capire che cosa che cosa affrontarono questi veramente veramente in questa epopea che fu guidata essenzialmente dal soprintendente che era allora Paolo Enrico Arias soprattutto che diresse lo scavo delle prime 148 tombe di Valle Pega ma soprattutto presente e onnipresente il professor Alfieri che fu veramente il mago di questa operazione come dicevo non si concordò più il lavoro in fase progettuale ma solo comunicazione in fase esecutiva ed esaminando i 25 giornali di scavo di Valle Pega la prima cosa che risulta è che non fu affatto uno scavo che si scaglionava nel tempo in zone diverse nel 53 inizio degli scavi del dosso A l'anno dopo il dosso A e inizia lo scavo del dosso B nel 55 cioè ogni anno si aggiungevano nuove campagne nel 55 gli scavi erano sul dosso A sul dosso B e anche una parte del dosso C molto lontani l'uno dall'altro come vedremo nel 57 dosso A dosso B dosso C come pure nel 58 addirittura nel 59 per non farsi mancare nulla si scavava sul dosso A sul dosso B sul dosso C e sull'inizio del dosso B da quelle parti fu rinvenuta anche la villa romana di Bocca delle Menate poi pian piano si andò un po' in esaurimento con un punto estremo nel 61 quando si iniziò anche lo scavo in un altro dosso E e poi nel 62 finalmente era quasi tutto finito ora questo fu fronteggiato prevalentemente dal professor Alfieri con degli assistenti e sono assistenti storici che poi hanno fatto la storia dell'archeologia il professor Giorgio Gualandi la professoressa Giuliana Riccioni la professoressa Stella Patitucci che erano diciamo allora giovani che furono assunti a spese tra l'altro dell'ente che si era costituito l'ente Prospina che si era costituito qui a Ferrara che quindi era quello si trovano negli archivi ancora anche i fogli paga di queste persone che venivano comunque retribuite per questo lavoro e 150 operai da coordinare ecco questa è molto interessante non la posso illustrare perché bisognerebbe vederla molto da vicino però questa è l'aerofotografia con una sovrapposizione di planimetria dell'area ma gli appunti autografi del professor Alfieri che cominciava già a segnare quelle scritte in rosso nel dosso più centrale non so se vedete il trasversale indica già l'individuazione del dosso più esterno che si rivelerà sarà battezzato poi dosso A ecco qui è stato un mio tentativo in una pubblicazione di cercare di mettere insieme le cose perché noi abbiamo quaderni con piccoli dettagli ma non abbiamo una pianta complessiva di Vallepega quindi è un po' una situazione un po' disperante che si raggranella tra un discorso e l'altro tra una pianta e l'altra qualcosa lo trovi in uno qualcosa lo trovi in un altro quindi qui sotto la base è la carta tecnica regionale poi ci sono una serie di quelli che vedete segnati in nero sono i dossi come li ha indicati nella pubblicazione il professor Ugeri e la professoressa Patitucci che vissero quel momento quindi probabilmente misero cioè avevano un'idea più precisa quello che vedete sotto in verdino sono invece le ricostruzioni che sono riuscite un pochino a fare cambiando le scale sui vari giornali di scavo ora devo dire che tutto sommato le cose tornano abbastanza per quello che ci interessa e che cosa si vede quindi una città di Spina che nel frattempo allora non era ancora scoperta ma nel 65 sarà scoperta e quindi porterà a capire meglio la dislocazione quindi Spina che sorge alla foce del fiume in prossimità del litorale e questi isolotti che si sviluppavano sul battente marino e su alcuni di questi si svilupparono l'impianto delle tombe ora fra un isolotto e l'altro è stata verificata la sostanziale inesistenza di altre tombe perché gli antichi abitanti di Spina utilizzavano dossi rilevati per cui è presumibile che andassero a seppellire i loro morti con la barca ci doveva essere acqua fra uno di questi dossi e l'altro guardiamo in basso nel cerchio che ho indicato dove c'è Canale e Santa Maria in Padovetere lì è una parte di un dosso che è stato possibile di cui è stato possibile comprendere l'ubicazione grazie alla lettura dei giornali di scavo ecco questo era il panorama che compariva agli scavatori quindi un terreno bonificato solo parzialmente desolatamente senza punti di riferimento e quindi questo era il dosso a cioè il battente più esterno verso oriente dove iniziarono gli scavi nel 1954 per i primi ritrovamenti che furono lì fatti ecco in queste piccole piante erano le piante di cui vi parlavo che si rintracciano nei giornali di scavo noi vediamo nella parte più esterna lo sviluppo disegnato dal professore Alfieri di questo dosso con alcuni punti di riferimento qui abbiamo il dosso a che è il più esterno poi vedete da questo lato verso occidente un altro sviluppo di dossi che è il dosso b e in alto si definiscono altri dossi caratterizzati da tombe che adesso andremo meglio a vedere su questo dosso a furono rinvenute che fu scavato tra il 54 e il 60 e poi si ebbe un ritorno anche nel 64 infatti bisogna stare molto attenti perché le tombe del dosso a sono dalla 1 alla 733 poi non si sa perché un'altra viene chiamata 1040 in realtà c'è il vuoto lì attorno quindi le tombe del dosso a sono 734 non sono 1000 pass ecco qua abbiamo una caratteristica del dosso a nella parte perché qui avevamo una piantina più specifica quindi se noi vediamo questa pianta degli scavi in questo caso era un po' girata quindi dobbiamo immaginare con quel dosso che noi ora vediamo in alto lo dobbiamo girare verso est e nella parte più alta ho trovato questa piantina che individua la parte più a nord del dosso a che recita proprietà da Vighi e questa proprietà da Vighi mi aveva subito incuriosito ricordavo i primi anni che ero al museo con la dottoressa Berti eravamo andati a fare un sopralluogo da quelle parti perché in questa proprietà da Vighi si trovò la famosa tomba 185A che ora è in museo e quindi ogni cosa che si muoveva uno dei punti dei cardini diciamo noti perché non tutti i luoghi sono noti del dosso però questa era possibile identificarlo quindi in proprietà da Vighi quindi abbiamo della tomba 185 abbiamo il preciso ritrovamento e anche qua vedete questi sono proprio appunti di mano del professore che vanno un po' interpretati a volte lui mette la scala mette il nord quindi è da lì che ho ricavato questa sorta di ricostruzione che vi ho mostrato prima ecco la tomba proprietà da Vighi dosso A la parte più esterna 185A la tomba che noi chiamiamo Veneta perché ha due situle di tipo Veneto non solo per la forma ma anche per i disegni che corrono sul coperchio di una e diciamo che è una tomba che si situa attorno alla metà del IV secolo a materiale vediamo la ceramica ci guida in tutto questo e comunque ha ancora ceramica attica ecco dal dosso A quindi da questo diciamo dosso più esterno era proprio vedremo come la cronologia delle tombe ci aiuta anche a pensare che sia quello che sostanzialmente ha la massima parte di tombe più recenti questa però è una tomba della prima metà del IV secolo è una delle tombe più splendide di spina quella che ha anche il diadema d'oro e il cratere con l'Iliu Persis l'ultima notte di Troia penso che questo lo ricorderete ed è molto importante secondo me l'ubicazione cioè vedere queste tombe e capire grosso modo da quale parte del sepolcreto venivano ci dà un'idea diversa perché a volte è chiaro che l'impressione più grande che da spina a volte è lo smarrimento cioè anche l'abitato di spina è un dosso una parte dell'abitato di sei ettari che se tu lo guardi cioè lo spinette non c'è più il canale non c'è più ti dicono andando lì mi è capitato di dire gli etruschi guardavano il mare traguardando le loro necropoli il mare non c'è più le necropoli non ci sono più quindi cioè ti viene da devi costruirla questa cosa nella tua mente ecco qua per il dosso abbiamo alcuni settori di questo dosso che ci consentirebbero se qualcuno li studierà ecco di vedere anche gli accorpamenti delle tombe che per gli archeologi sono importantissimi capire se ci sono degli accorpamenti a livello familiare a livello di genes se c'è qualcosa che nel corredo caratterizza un gruppo che può essere quindi definito un gruppo familiare e quindi sono preziosissimi questi pochi disegni che abbiamo per valutare poi tutto questo vedete la tomba 709 scrive professore dista metri 81 dal margine settentrionale della campetta cioè sono misure insomma un po' così però ci possiamo arrivare ecco qua nel dosso alla planimetria delle tombe messe in luce in un certo periodo vi ho sottolineato la 732 che è una tomba piuttosto tarda ecco di cui ci viene restituito anche uno dei pochi disegni di scavo con l'identificazione precisa di dove furono trovate i materiali ed è una inumazione entro cassa di fine quarto inizi terzo secolo ecco questa è una tomba che non è esposta che comunque è caratterizzata in quest'ultima fase dal cosiddetto stile alto adriatico cioè produzioni locali di pregio quelle che alle città ormai orfane di ceramica greca venivano a sostituire quello che non c'era più il greco figurato ecco il dosso B ho già adesso non mi voglio dilungare su questo comunque se il dosso A è il più esterno il dosso B è quello che immediatamente lo segue procedendo verso occidente e questo è quello che ha restituito il maggior numero di tombe 1112 quindi 734 1112 e qui gli scavi si concentrarono per ben sette anni dal 56 al 61 come vedete non c'è differenza fra le foto che vi ho fatto vedere del dosso A e del dosso B cioè il paesaggio è uguale anche se questo dosso vi faccio notare è alla fine più vicino alla città è meno esterno di quello che abbiamo visto prima e qui soliti dettagli ecco da vedere così per capire poi come si riesce e si riuscirà ad identificare il posizionamento preciso di alcune tombe è importante identificarlo non tanto per una mera per un mero concetto così nozionistico ma per capire come si avvicinavano le une alle altre se c'era qualcosa che caratterizzava questi corredi ecco qui c'è fra la 1040 la 1112 vedete abbiamo una pianta molto precisa che consentirà a chi vorrà di fare discorsi di questo tipo che sono quelli che poi stanno nascendo molto sistematicamente dagli studi in Valle Treppa ecco questa è una tomba molto interessante ci torneremo la tomba 740B in corso di scavo una tomba in cassa vedete qui l'ho messo soprattutto per far vedere le condizioni di scavo bisognava mettere dei grossi c'erano vari sistemi però uno dei più efficaci erano questi grandi cerchi di metallo che venivano diciamo spinti piantati nel terreno che poi veniva svuotato dell'acqua con i secchi e quindi si scavava e molte volte nel giornale di scavo risulta proprio che si pescavano gli oggetti quindi tante volte anche il loro posizionamento non era molto preciso questa aveva una cassa molto particolare perché gli assi di questa cassa erano alti 50 centimetri quindi era una cassa alta il coperchio quasi sempre era ormai marcito e sconvolto in questo caso per esempio vedete questo che era il segnacolo tombale lui stesso aveva spondato la cassa quindi era caduto era caduto dentro perché dobbiamo immaginare appunto che il legno poi si deperiva ecco il dosso c il dosso c è invece in una posizione che fu rinvenuto nel 55 quindi già quando si scavava negli altri è quello più a sud più a sud con quel grosso cerchio e è identificato non solo dal fatto che era sul canale pallotta ma anche da un elemento molto significativo la casermetta della guardia di finanza poi gli scavi si spostarono in quel periodo anche sul canale Borgazzi che era giù di quasi un chilometro e questo scavo fu condotto diciamo numerando le tombe secondo i giorni in cui venivano trovate quindi si scavava un po' su un po' giù e quindi si è perso la divisione delle tombe quali erano nel dosso C a nord e quali erano nel dosso C a sud e vedremo ecco leggere me l'ero scritto perché volevo leggere una breve cosa nella vicenda del dosso C quindi Nereo Alfieri nella sua annuale relazione di scavo sulla campagna di scavo del 55 scrive l'identificazione della nuova zona archeologica è stata facile conseguenza dello studio sull'andamento dei dossi fatto col metodo del micro rilievo e con l'aerofotografia a cui lo scrivente attese nello scorso inverno ma l'intervento di scavo si ebbe solo in dipendenza dei tentativi di furto che imposero di saggiare l'effettiva consistenza di esse e di recuperare le unità tombali di cui una parte era stata manomessa i problemi di ordine pratico cioè quelli della sorveglianza e della logistica imposti dall'ampliamento della zona archeologica sono stati e sono a tuttora gravissimi quindi erano continue le relazioni del professor Alfieri e del soprintendente su questo problema ecco perché il controllo non solo la fatica degli scavi ma il controllo il controllo e in quegli anni si cercò di ovviare costruendo ecco questo è l'ingrandimento del DOSOC che vi ho fatto vedere prima quello subito sotto il canale Pallotta vedete GDF guardia di finanza la casermetta e qui sotto è l'unico disegno almeno fra il materiale in archivio che ci è rimasto della parte meridionale del DOSOC quella che vi dicevo sul canale Borgazzi ora questa casermetta iniziò ad essere costruita nel 1953 proprio per controllare gli scavi in Valle Pega ve la faccio vedere e ricordare quella di Valle Trebba cioè i tempi erano molto cambiati negli anni di Valle Trebba avete visto la casa del tesoro era una vera casa a due piani che ancora resiste questa era poco più che una baracca e vicino c'è questa un po' buffa torre di avvistamento ecco noi dobbiamo immaginare che da qui la guardia di finanza cercava di controllare tutte le valli ora un'osservazione può essere quella che ed è funzionale a quello che dirò dopo abbiano scelto un punto di particolare rilievo ci sono dei punti rialzati rispetto al piattume delle valli e da quel punto di avvistamento riuscirono meglio anche a controllare gli scavi clandestini questo è un sequestro del 55 di un cratere che è quello poi un po' simbolo anche per molti insomma del museo di Ferrara adesso lo vediamo anche esposto in museo il cosiddetto dei satiri villosi con questa gigantomachia meravigliosa che appunto è stato ricomposto da vari frammenti e che è stato veramente recuperato alla comunità e alla comunità all'umanità diciamo per il museo dalla guardia di finanza e dalla sua operatività ci sono pagine e pagine di relazioni dei finanzieri che lavoravano anche ovviamente avvistavano anche di notte perché gli scavatori clandestini anche di notte agivano ma è chiaro che con le luci erano più identificabili però dalla bicicletta nelle zone più rilevate si era passata anche le automobili quindi era molto difficile ecco si potrebbe fare come diceva anche Alberto un intero racconto di questa storia dei sequestri e dei recuperi che sicuramente è molto molto interessante ma è un'altra storia ecco ecco qui alcune ho messo alcune immagini degli scavi dove vedete sempre questi operai ecco il professore Alfieri ebbe anche l'intelligente trovata di assumere perché poi è chiaro che la piaga dei clandestini era una piaga che affliggeva Comacchio come affligge tutti gli altri paesi o città o cittadine che siano vicino a un luogo dove ci si può accaparrare delle cose ecco pensiamo a Cerveteri succede la stessa storia poi è chiaro che molti trovavano un guadagno da tutto questo e quindi erano gli scavi clandestini e le vie di questi dello smistamento di questi materiali che passavano per Milano passavano per Firenze passavano per Venezia erano ben note e spesso insomma sono stati appunto non a caso trovati e pizzicati però molti in gran parte queste persone quelli che volevano praticamente potevano essere assunti negli scavi e quindi anche la cittadina di Comacchio trovò anche nell'onesto lavoro dello scavatore trovò una buona occupazione che servì per vari anni ecco allora gli scavi come vedete non erano certo come quelli di oggi stratigrafie poche però come dicevo era anche un discorso di grande grande necessità di muoversi velocemente quella che ho identificato qui sono alcune immagini dell'inizio dello scavo della tomba 18C e l'ho scelta perché ecco professore perché poi è una delle tombe esposte che poi vi mostrerò cioè il professore Alfieri poi aveva anche questa grande capacità di focalizzare l'attenzione anche di associazioni di gruppi che poi potevano fare qualcosa per spina è chiaro che questo implicava che tutti volevano sentirsi protodonda 18C che è una cremazione ecco quindi vedete bisognava a volte anche diciamo avere la pazienza di sopportare questo perché poi le associazioni contribuivano molto ai restauri pensiamo per esempio e anche quella sarebbe un'altra storia come il comune di Milano in cambio di alcuni vasi di spina da sequestro dette 5 milioni per lo scavo 5 milioni di allora degli anni 57 per continuare gli scavi ecco vedete man mano che emergono i materiali ne vedete la ricchezza venivano poi tutti esposti e recuperati con grande cura perché poi se vedete i vasi composti in museo quando la tomba non fosse stata violata da clandestini sono quasi completi ecco e questo da questa tomba viene questo cratere del pittore di Boreas e la tomba è la 18C che avrete senz'altro visto in una delle vetrine del museo di fronte a questa ho qualche minuto ancora di fronte a pochi metri da questa perché stiamo cercando di ricostruire proprio dalle indicazioni del giornale di scavo a pochi metri da questa c'era non a caso la tomba 19C vedremo come anche questa era stessa era caratterizzata come la 18C dalla cremazione e aveva un corredo diciamo meno straordinario dell'altra ma certamente uno dei crateri il cratere più grande che ha restituito spina ma la grandezza vorrebbe dire poco anche se insomma 91 cm di altezza ed è un cratere con probabilmente una scena che si rifà sempre al ciclo troiano come anche l'altro cratere e vedrete come c'è un filo diretto che congiunge queste due tombe che porta a far sì che si devono comprendere insieme perché tutte e due sono caratterizzate del rito crematorio entrambe hanno una serie di caratteristiche come il creagra o altri oggetti e quindi sono due tombe molto vicine dello stesso periodo che presumibilmente possono diciamo darci una lettura di una zona di particolare interesse e queste tombe assieme ad altre di particolare rilievo trovate sul dosso C sono quasi tutte vicine e vicine alla casermetta della guardia di finanza ecco questo è il cratere la cremazione del pittore di Chicago che attualmente è al museo di Comacchio ecco un'altra delle tombe più straordinarie della necropoli di Spina è questa tomba 57C che anche questa fu rinvenuta vicino alle altre due cioè le tombe più importanti di Spina sono 11C 15C 18C 19C c'è la 44C cioè i crateri diciamo la 6C la 57C qualcosa doveva voler dire tutto questo e quindi anche questo è un vaso straordinario e su questo argomento ritorneremo proprio alla fine qui l'evidenziazione del dosso D che è un dosso più piccolo che fu trovato dal 59 al 61 che è il dosso di tombe più vicino alla città e questo diciamo trova un rispecchiamento molto preciso nel fatto che è un dosso che ha le tombe in percentuale le più antiche di Spina quindi ci sono anche tombe più recenti però e sono un gran numero di queste tombe sono esposte al museo di Comacchio che doveva proprio caratterizzarsi come rappresentazione delle tombe più antiche della città quindi anche la composizione di questi corredi è molto particolare e questo dosso è di difficilissima individuazione dovrebbe essere in parte anche sulla diciamo mentre si scavava qui si trovò anche la villa di Bocca delle Menate quindi è probabile che anche la villa romana insistesse sopra questi resti ecco in una di queste queste tombe nella 90D anche qui ho portato una bella immagine di questo scavo con i cerchioni sempre per rilevare e qui questa è una nota di puro colore la tomba 83D è poi una tomba di poco significato dal punto di vista dei materiali ma l'avevano fotografata come la duemillesima tomba di Spina ecco questa è un'altra sempre nel dosso di che è caratterizzata da uno dei vasi più antichi di Spina del pittore di Berlino e anche questa voi la vedete nella seconda sala del museo questo è il momento del ritrovamento di una tomba che poi potete vedere esposta al museo di Comacchio è una piccola tomba certamente femminile con molti oggetti anche linei se li vedete in alto nella foto c'è la pissi della conocchia insomma questo è proprio il momento e anche un pettine è il momento in cui affiorò alla luce qui l'avevo riportata perché è una dei vasi più antichi di Spina del pittore di Epidromos e assieme a questa oinocoe del pittore di Sevres il dosso ha solo 30 tombe ha solo 30 tombe ma di questo magicamente ci è stato restituito un piccolo schizzo che vedete pianta dello scavo in scala 1 a 1000 quindi di questo mi sono occupata in particolare e questo dosso ha restituito una delle teste delle oinocoe configurate più belle di Spina ecco questo è un pezzo atenese straordinario ecco questa è una ricostruzione che in uno studio che ho fatto sono riuscita a fare della distribuzione delle tombe nel dosso di proprio qui adesso non vi voglio annoiare con i colori e le forme sono tombe di vario tipo è un dosso che fu particolarmente diciamo il numero maggiore delle tombe verdi vedete perché sono tombe di quarto quelle rosse sono di quinto quelle azzurre sono di fine quarto inizi terzo di varie tipologie ma quella tomba numero sette era una tomba molto particolare era una tomba in cassa linea e gli scavatori riportarono che aveva sopra dell'argilla di riporto ecco questo è uno schizzo che ne ha fatto il professore al momento del ritrovamento e dice inumazione in cassa linea con argilla di riporto anfore di quarto secolo dal giornale di scavo del 61 e le sue parole testuali sono in corrispondenza della zona della tomba si nota una massa di argilla riportata quasi fosse il tumulo dell'antico seppellimento o uno strato posto a difesa della tomba stessa questo strato accompagna in profondità tutta la stratigrafia fino al fondo della tomba che è di metri 1,30 si tratta di tomba inumazione eccetera l'orientamento del cadavere ora è rarissimo che si registri questo discorso del riporto della terra e ti fa pensare su tumuli a spina perché una delle domande che ci facciamo sempre come dovevano apparire queste tombe di spina noi sappiamo che erano non monumentali seppellite nella sabbia su dossi rilevati è presumibile che le tombe di maggiore prestigio fossero nella parte più alta del dosso ma questo discorso del tumulo piccolo tumulo non dobbiamo pensare ai tumuli di Cervetteri allora ho avuto la curiosità di andare ad indagare ecco vi risparmio perché ce ne sono parecchie però vi faccio solo vedere due cose sono ritornata per esempio su questa tomba 740b in corso di scavo anche qui il professore scriveva riporto di argilla e questa è una tomba che ha un cipo sagomato eccetera poi è quella con le ambre più belle di spina con questo copricapo di tipo balcanico e dice oggetti su palchetto ligno con piedi sagomati e nella parte meridionale della tomba una culla linea contestata decorata da motivi fitomorfi ecco quello che rimane di questi legni è questo io francamente adesso però non lo so se qualche studioso di legno potrà reindividuare i motivi fitomorfi comunque certo c'è una culla c'è una cline su cui è appoggiato il materiale cioè una trapeza scusate un tavolino su cui è appoggiato il materiale se riuscite a vedere i piedi della cline o della trapeza sono anche lavorati ci sono dei pezzi di legno lavorati questo credo che apra una parentesi su spina forse anche un po' diversa ce la fa sentire più vicina ecco perché andando indietro si trovano anche in questo stesso dosso di letti funebri in altre tombe di cui sono rimasti i resti questi sono fotografati allora qualcosa c'è anche nei depositi naturalmente bisognerà ricostruirlo e a quel punto si scopre che cioè andando a cercare meglio anche la tomba 41D quella che vi ho mostrato che ha questo stupendo vaso del pittore di Berlino aveva era registrato dal professore come un tumulo con argilla di riporto e ciotolo segnacolo il corredo è questo e nel dosso C ritornando al dosso C e alla casermetta della guardia di finanza torniamo anche alla tomba di ciotto quella che vi ho fatto vedere spesso è tenace e strato di argilla di riporto anche sopra questo che è la tomba che vi mostravo e anche e è una quindi cremazione quella cremazione questa della tomba 19 e anche sopra quella c'era un strato di argilla di riporto nella tomba 11C pure cremazione anche questa con l'anfora panatenaica non è stato questo non è stato registrato e comunque c'era anche sopra questo della tomba 57C quindi che cosa volevo dire che è una è una strada da percorrere molto interessante quella di capire come poteva essere anche il paesaggio perché ci cambierebbe e soprattutto accorperebbe in questa zona del dosso C una serie di corredi di altissimo prestigio che potrebbero far capire quella che poteva essere una classe diciamo una classe predominante a spina una classe aristocratica che si fa seppellire con tutti i segni del suo prestigio quindi gli appunti del rituale ecco qui non voglio soffermarmi in modo particolare passo lo possiamo all'orientamento delle tombe sono cose ecco che richiederebbero approfondimenti molto qui ho fatto tutto uno studio sui riti perché si dice sempre che l'inumazione a spina prevale sulla cremazione ma se noi andiamo a fare la divisione cronologica dei corredi questa è la distribuzione complessiva dei riti quindi le inumazioni sono quelle grigie le cremazioni sono quelle rosse che sono in numero inferiore però guardandole dal punto di vista cronologico noi possiamo vedere come la sticella in basso che sono le cremazioni nel corso del tempo tendono a crescere mentre le inumazioni tendono a calare è logico che comunque in queste cremazioni dobbiamo considerare quelle dell'ultima fase della città di quarto terzo dove tantissime tombe sono cremazioni entrodoglio ma anche questo ci può dire qualcosa della mutazione di un rito perché noi sappiamo che le tombe più ricche di spina anche di quinto le tombe più significative sono quasi tutte sono a cremazione e attribuiamo quindi leggiamo in chiave di culto eroico del sepolto certamente però anche in seguito bisogna leggere la composizione dei corredi anche alla luce di eventuali nuove ideologie pitagorismo imperante quindi sono dati da prendere veramente molto con le pinze però intanto bisogna averli e qui ci sono e andranno rielaborati vi mostro solo una cosa in azzurro scuro ci sono sono indicate le tombe più antiche quindi a proposito di quel discorso che vi facevo vedete come le tombe più antiche in assoluto sono assai poche nel dosso A mentre abbondano nel dosso D che abbiamo detto essere la parte più antica e non a caso il primo ambito di occupazione dell'abitato che è presumibile che dovendo diciamo seppellire i morti man mano si siano diffusi non è una regola costante però è possibile che la necropoli si sia allargata ecco e questa che è un po' l'ultima immagine volevo solo sottolineare un elemento molto problematico cioè in giallo abbiamo la rappresentazione dell'abitato di Spina l'abitato di Spina a cui si fa riferimento tutti i dossi con tutte le tombe di cui abbiamo parlato e anche le tombe di Valetrebba quell'abitato di Spina ora se noi pensiamo invece alla parte più meridionale del dosso C che vi ho fatto vedere dallo studio completato da poco risulta che la massima parte di quelle tombe sono molto recenti è come se ci fosse stato uno spostamento di uno spostamento di sepolture nell'ultima fase di Spina le tombe più recenti vengono da lì e quando il professore Alfieri scavò questa serie di tombe sul canale Borgazzi ebbe anche la possibilità di fare dei sondaggi in quella zona che è fra Santa Maria in Padovetere quella zona lì e la zona della Paganella in particolare dove individuò dei resti di Palafitte e lui che ancora non poteva sapere perché l'abitato di Spina quello noto a tutti è del 65 e quindi non poteva sapere dove fosse l'abitato di Spina suppose che lì fosse l'abitato di Spina allora è chiaro che un invito ai topografi e all'archeologia di oggi poter verificare questo dato perché potrebbe essere diciamo interessante rilevare la presenza di una necropoli così meridionale a poca distanza meno di 500 metri dalla Paganella mentre fra questo Dosso Borgazzi e Spina ci sono due chilometri e mezzo quindi ecco è un dato interessante che certamente non risolviamo oggi ma che lo propongo perché è probabile che qui in futuro visto che ora stanno iniziando dei lavori anche di mappatura del terreno molto precisi c'è questo progetto Value a cura del comune di Comacchio con l'università di Ferrara l'università di Bologna e tanti altri studiosi quindi è probabile che sia una cosa che magari verrà affrontata quindi ecco io vi spingevo a questo dico andiamo ad incontrarli perché è il museo che ci aspetta ma suppongo che alla fine di tutti questi incontri poi ci sarà sicuramente una visita al museo vi ringrazio dell'attenzione beh sai tu come si spegne non vorrei bene grazie Paola di questa bellissima ricchissima e generosa esposizione e condivisione devo dire che ero emozionato nel seguire nel vedere nei richiami frequenti al professor Nereo Alfieri da me veramente seguito bibliograficamente perché non si può fare diversamente ma con un coinvolgimento non solo legato all'interesse per lo studio dell'antichità ma anche proprio per lo spessore il profilo umano l'essere del proprio tempo e in questo caso questi rapporti con la società del tempo quale che fosse la 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 classe diciamo il gruppo sociale dall'associazione dalle associazioni ai rapporti con le maestranze come a chiesi e non solo e le condizioni nelle quali lavoravano gli operai mi risulta che lo stesso Alfieri affiancava e si immergeva si sporcava le mani voglio dire in tutto e per tutto oltre ai trasferimenti da Ferrara per raggiungere gli scavi in automobili in bicicletta per quello che ne risulta emozionato anche perché stasera in sala c'è anche la dottoressa Fede Berti che ha scavato oltre che essere stata direttrice il referente per una stagione della storia di Spina e del suo museo che è il museo nazionale di Ferrara il museo archeologico nazionale di Ferrara la ringrazio per essere qui con noi e sarà tra l'otto di marzo ci affiancherà o ci donerà alcune delle sue riflessioni e condivisioni di un'esperienza veramente preziosissima anche l'esposizione della dottoressa De Santis ha superato quelle che erano non dico le aspettative ma la richiesta perché il taglio che avevo dato fino adesso era quello di seguire un po' le scoperte e lo stato delle conoscenze allora procedendo in termini così temporali anche nella storia delle ricerche qui ci sono state tutta una serie di anticipazioni che ci hanno messo alla pass ci hanno aggiornato su quello che è lo stato delle conoscenze i lavori in corso per Vallepega almeno in parte pronti? sì ecco questo tipo di studio che ho proposto è solo per organizzare un po' perché se non avessimo parlato dei riscaldi da un suo altro senza questo forse non si sarebbe capito lo sport non era una critica era un ampliamento che c'è stato un anticipo ecco benissimo no 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 anzi si è potuto così abbiamo potuto godere di una ricchezza di documentazione accompagnata dalle riflessioni su quello che si pensa possa essere e la prospettiva delle ricerche future allora andiamo avanti per concludere ecco allora gli scavi di Vallepega si era parlato di un convegno ecco del convegno Spina e Letruria Padana nel 1957 si sono trovate le risorse le volontà i supporti per organizzare questo primo convegno di studi etruschi che fu curato dal comitato promotore ferrarese chi si trovò a Ferrara si trovò Nereo Alfieri che diede espose quella che era la situazione a livello di conoscenze a scavi ancora in corso con tentativi con prime prime proposizioni a livello interpretativo oltre che a segnalare i contenuti dei singoli rinvenimenti e associazioni un approccio di carattere topografico e in particolare urbanistico per quanto riguardava la città l'abitato di Spina i collegamenti con il paesaggio si è parlato di ricerche topografiche però anche detto come la qualità dei rinvenimenti delle necropoli spinetiche è elevata eccelsa ed ecco allora alcuni contributi dedicati alla ceramica e che hanno visto presente oltre a Paolo Enrico Arias che era il soprintendente mi pare fosse ancora il soprintendente ancora in quell'anno lì insomma sarebbe poi diventato professore a Pisa ma anche di John Besley il massimo studioso presente a Ferrara il massimo studioso di ceramica attica vivente all'epoca che veniva a Ferrara soggiornava a Ferrara studiando quei materiali che venivano via via scoperti di cui relaziona spina e la ceramica greca poi il problema topografico storico di spina e qui c'è il discorso di Silvio Ferri spina 1 spina 2 spina 3 ecco cioè cronologico siccome se riandiamo alle fonti che abbiamo letto considerato la volta scorsa e l'accenno è stato fatto anche dalla dottoressa De Santis il fatto dei pelasgi ecco allora la spina la spina che sarebbe stata fondata in questa epoca non è ben definita comunque fine età del bronzo prima età del ferro a che cosa associare bene questa spina che noi conosciamo dall'evidenza quella che è stata trovata fino a quest'epoca fino a questi anni di ricerca gli anni fin anni 50 dovrebbe essere la spina 2 e la spina più quindi l'età classica quella che corrisponde alla fase felsinea per quanto riguarda della certosa per quanto riguarda felsina a Bologna e la spina più antica villanoviana o di proto villanoviana beh questa successione di questa scansione viene così presentata proposta da Silvio Ferri poi questi problemi di spina la seconda parte della giornata di studi del convegno è stato legato all'inserimento cioè come si pone spina e nei confronti di quella più ampia in un orizzonte geografico più ampio che è quello dell'Etruria Padana e allora ecco i professori Laurenzi e poi Mansuelli Guido Achille Mansuelli Zuffa che pongono alcune alcune suggestioni cercano di calare la realtà di spina in quella che era la conoscenza che si aveva parziale ecco perché così come per Spina per la documentazione archeologica di Spina ancora oggi a distanza di decenni non si è giunti all'edizione definitiva finale dei materiali lo stesso all'epoca poteva dirsi per buona parte di quella che era la documentazione emersa dalle indagini felsine e bolognesi insomma poi si è parlato Paola De Santis ha richiamato la palafitta della Paganella e allora ho pensato che potesse essere utile senza volere volendo ho messo dentro queste immagini che ci richiamano queste strutture e linee che non sono di ambito funerario come è stato per quella che è la documentazione che abbiamo visionato che ci è stata proposta fino adesso e quindi saggio di scavo della palafitta della Paganella in questo momento i studi e la convinzione il pensiero di Alfieri era che si fosse trovato appunto l'abitato ecco perché c'era stata anche una verifica sul terreno a che cosa ha tutta una serie di contrasti che si erano notati proprio studiando le foto le foto aeree prese dal dal Val Vassori qui ne ho proposte due che sono che accompagnano il testo dell'Alfieri Comacchio Vallepega particolare della veduta precedente c'era un'altra ho dovuto selezionare i canali della moderna bonificazione i canali della moderna bonificazione sono questi perpendicolari questi paralleli e perpendicolari canali della moderna bonificazione poi due canali antichi interrati sarebbero queste sono queste linee più scure dovute a una percentuale maggiore di umidità canali antichi interrati o vie d'acqua dell'abitato di Spina e questo abitato sarebbe stato riconosciuto all'epoca in questa sorta di isolati poi porto canale antico porto canale antico allora se queste linee più scure risultano essere interpretate come canali antichi quest'asta scurissima numerata a 3 viene interpretato come e è confermato come un canale all'epoca riconosciuto datato ricondotto al periodo di Spina di Spina 2 come dicevamo porto canale antico F F sito dove fu praticato il saggio di scavo di cui alle foto che abbiamo visto allora F adesso è qua ecco poi queste le abbiamo viste pardon ecco qui un'altra immagine dell'area presso la Paganella con Motta della Girata Motta della Girata l'Argine dei Borgassi il grosso dosso dell'antico Padovetere riconosciuto come tale il canale che si diparte prima procedendo da sud verso nord e poi orientandosi da ovest verso est quel possibile canale portuale di Spina gli isolati di cui si parlava dei canali che dividono che raccordano questa maglia e poi una novità indicata nel richiamata durante il convegno aggiornato negli atti che sono stati pubblicati un paio di anni più tardi l'indicazione poi di quello che si è trovato al numero due al numero due cioè i resti di una resti murari e di un edificio datato al momento a età tardo-antica alto-medievale rinvenuta perché incisa dalle scavazioni di questo canale secondario si tratta del che è poi stato riconosciuto come i resti di una chiesa poi nel medioevo Pieve la Pieve di Santa Maria in Padovetere ma ne riparleremo poi ora la mostra dell'Etruria Padana il tempo veramente così come il convegno nel 60 una delle biennali di storia dell'arte bolognesi è stata dedicata proprio per l'eccezionalità proprio perché c'era una sorta di domanda nonostante non si fosse pronti con risposte dal punto di vista scientifico sintesi a proposito di Spina e più in generale dell'Etruria Padana come si legge nel contributo introduttivo di Guido Achille Manzuelli si è interrotta la serie di mostre di pittura del 600 bolognese per proporre questa iniziativa e Spina l'ha fatta da padrona qui c'è dunque 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 ho sbagliato l'immagine dell'indice c'è la presentazione cronologicamente la mostra è stata organizzata seguendo cronologicamente quella che era quella che è la documentazione che andava dall'età dall'inizio dell'età del ferro e anche prima comunque con il villanoviano questa fase culturale tra non ottavo secolo e anche parte settimo le diverse fasi e quindi la fase certosa per Felsina l'antenata della nostra di Bologna quindi Spina e poi un'etrocità padana periferica con i richiami cioè Verrucchio Adria e poi un orizzonte ancora più chiudiamo chiudiamo perché il tempo non c'è non c'è più e allora per sintetizzare al massimo il discorso dell'abitato di Valle Lepri di cui si è fatto cenno prendo do la parola insomma leggo quanto hanno scritto Stella Uggeri Patitucci e Giovanni Uggeri in quella che mi risulta essere la prima delle comunicazioni legata all'abitato di Valle Lepri pubblicato nel bollettino dei musei ferraresi del 73 quindi precede lo studio poi pubblicato sulla rivista Studi Etruschi del 74 allora mi limito a tre periodi durante i lavori condotti dall'ente del Tapadano di cui abbiamo sentito prima a partire dal 1957 per il prosciugamento della Valle del Mezzano la Draga che apriva l'alveo subacqueo del futuro canale collettore principale del Mezzano nord-ovest che è quel grande corso che noi vediamo il più importante canale di scolo delle acque basse di questo bacino in una notte del novembre 1959 incontrava il nucleo principale dell'abitato di spina e lo attraversava per circa 200 metri e per una larghezza variabile tra i 15 e i 40 metri quindi una devastazione cioè si è trovato all'abitato devastandone un'ampia fascia striscia lo spurgo riversato lateralmente conteneva una massa ingente di materiale archeologico costituito essenzialmente da frammenti vascolari per cui fu subito denominato pittorescamente la barina dei cocci anche il canale diversivo mediante il quale il secondario Anita fu raccordato al collettore principale per permettere lo sgrondo delle acque del bacino di Mezzano sud-est verso l'idrovora provvisoria di Valle Lepri venne ad attraversare successivamente la città antica questo nucleo dei sei ettari di cui si è sentito prima venne ad attraversare successivamente la città antica un centinaio di metri più a sud per una lunghezza di circa 100 metri e una larghezza di 20 e questo è avvenuto nella primavera del 65 nel 64 il definitivo prosciugamento della Valle del Mezzano permetteva le prime esplorazioni della superficie del fondo lagunare il terreno si presentava assolutamente privo di qualsiasi traccia archeologica se si accettuavano i cumuli di detrito archeologico di spurgo della draga depositati ai lati dei canali che vediamo anche questi materiali fornivano intanto prima ancora di iniziare gli scavi programmati questi materiali fornivano intanto un primo orientamento cronologico sull'insediamento obliterato da una spessa coltra argillosa e dal manto superficiale di detriti di cardium e concludo appariva evidente il sostanziale parallelismo con la necropoli spinetica con un escursus cronologico dagli inizi del secolo V a.C. alla tarda età ellenistica per cui non si ebbe alcun dubbio sulla natura del sito considerato da allora come il nucleo principale dell'abitato di Spina ci fermiamo qui perché dobbiamo fermarci qui ci aggiorniamo per il prossimo appuntamento dell'8 marzo ringraziamo la dottoressa De Santi e io chi ci ha seguito con pazienza e attenzione e ringraziamo e diamo l'augurio della buona serata se qualcuno una domanda ci potrebbe anche stare siamo disponibili grazie comunque tantissimo bene et deoxatis grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti